buongiorno ciclisti vi spiego come vestirsi in questo periodo autunnale dove la mattina fa leggermente fresco poi pian piano che passano minuti passano le mezz'ore le ore diventa sempre più mite e quindi bisogna vestirsi come si dice a sfoglia di cipolla nel senso che praticamente si indossa il gilet il gilet lo smanicato sotto si mette la maglietta estiva e sotto ancora una maglietta intima una maglietta intima traforata solo in alcuni punti quella nella zona centrale invece coperta con le trame sempre più fitte poi si mettono i calzoncini estivi si si preferisce anche i gambali che poi pian piano si tolgono importante anche una sorta di foulard che copra la gola rimane leggermente scoperta ecco questo secondo me è il miglior modo per vestirsi in questo periodo come se fossimo delle cipolle che a seconda necessità si tolgono una parte di sé siamo cipolle dai scherzo siamo ciclisti ciao ciao